Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le giornate FAI di primavera. Il più importante evento di piazza è dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia che svela gioielli spesso nascosti alle visite pubbliche. Saranno 750 le aperture straordinarie in tutta Italia, 18 nella provincia di Pesaro Urbino. Giornate presentate nella prefettura il cui Palazzo Ducale è uno dei quattro luoghi visitabili nella capitale della cultura. Apriremo qui a Pesaro, proprio il Palazzo Ducale dove ci troviamo, con un'anteprima il venerdì pomeriggio dedicato solamente agli iscritti FAI. Apriremo poi la chiesa del nome di Dio, altro luogo legato a Della Rovere e poi apriremo il parco e la villa Miralfiore. Villa Miralfiore che sarà un bene riservato solamente agli iscritti FAI, ci si potrà iscrivere anche sul posto. Poi apriremo, perché ama appunto i giardini e le dimore storiche, Villa Cattani Stuart a Trebbia Antico. All'interno delle giornate FAI ci sarà domenica pomeriggio due percorsi dedicati alla medicina forestale che è questa nuova medicina complementare che viene dal Giappone ormai dagli anni 80, ormai si sta diffondendo anche in Italia e permette alle persone di entrare in un contatto diverso con gli alberi e con la natura con esperienze emotive e con esperienze anche in qualche modo che rendono una visione del rapporto uomo-natura molto più integrato.